buongiorno a tutti voi sono mauro migliorini da oggi ho l'onore e l'onere di essere il presidente di città slow international sono sindaco di una piccola città del veneto asolo in provincia di treviso un piccolo borgo di poco più di 9 mila abitanti oggi ho raccolto una grande sfida sono momenti di sfida per tutti noi non solo per gli amministratori ma anche per tutto il nostro territorio per i nostri cittadini per le nostre associazioni per le attività produttive ma all'interno di questa sfida legata alla pandemia da covid 19 penso che le città slow devono dare il loro contributo in prima persona il nostro modo di operare di amministrare di guidare le nostre amministrazioni il nostro modo con cui ci approcciamo le problematiche ambientali o della piccolo artigianato del mercato agricolo di tanti altri obiettivi che abbiamo nella nostra carta fondamentale sono oggi che possono essere nel futuro il vaccino contro il post covid tutti noi dobbiamo metterci in gioco sia come amministratori ma anche come cittadini ognuno di noi per le proprie conoscenze per le proprie competenze per le proprie abilità deve fare qualcosa per aiutare il nostro territorio aiutare la nostra società aiutare il nostro mondo che è in profonda crisi solamente così possiamo dare un futuro bellissimo e pieno di entusiasmo a chi verrà dopo di noi dai nostri figli ai figli dei nostri figli crediamoci e lavoriamo insieme e viva le città slow che sono il perno fondamentale di questo momento di notevole difficoltà per tutti